E siamo così al 4 maggio, l'Alcamo sbarca a Civitavecchia, è l'ultimo ostacolo della valanga nerazzurra, vediamo come sarà travolto. Amici sportivi, buon poverizio dallo stadio Fattore dove tra 5 minuti circa inizierà la finale di ritorno della Coppa Italia di Vettanti, si affrontano il Civitavecchia e l'Alcamo la settimana scorsa in Sicilia, è stato 0-0, un saluto subito anche a Arrio Venturini che commenterà la partita con noi. Buonasera, c'è la partita che ha sottoscritto, è un incontro che sicuramente ha visto qualcosa di meraviglioso, risposi al Fattore, qualcosa che purtroppo si era dimenticato, invece vediamo che ci sono circa 2.800, 2.000 persone cosenti al Fattore che attendono solamente il fisco all'inizio dell'appunto. Ecco, vediamo subito le formazioni delle due squadre, fronti che ricordiamo è squalificato, in panchina c'è infatti l'allenatore in seconda, Burtini, schiererà dall'inizio Lucchetti tra i pali, Baldolini in difesa sulla destra, Galli e Quatrana centrali, Galli con il numero 3, Quatrana con il numero 5, Marcaccini sulla sinistra, a centrocampo ci saranno Staffa, Stacchiotti, Benedetti e Lucci in attacco, Bernarella e Picciolo, giriamo la promozione completa con i numeri, Lucchetti, Baldolini e Galli, Staffa, Quatrana e Marcaccini, Lucci, Stacchiotti, Picciolo, Bernarella e Benedetti in panchina, si daranno il secondo portiere Lattanzi, Carbone, Rocchetti, Quabri e Brandi Spada. Nella Civitalecchia assente Scarpini, spunto la scorsa settimana ad Alcamo e squalificato per due turni, era in forze Bernarella, infortunatosi ieri durante l'allenamento, però lo vediamo regolarmente in lista. Per quanto riguarda invece l'Alcamo, anche qui una formazione rimaneggiata, infatti il tecnico Mangiapanes che era Messina, Lombardo e Pesco, Napoli, Morsello e Scurto, Regina, Adragna, Impastato, Castellano e Banchi. In panchina ci sono Viola, Coraci, Campanella e Gervino. Dicevamo anche qui dell'assenza, infatti è stato squalificato il bomber della formazione bianconera a fascella, mentre è fuori per motivi disciplinari, l'altro attaccante, Bono. Infortunato il capitano Coraci che era squalificato l'ascorsa settimana e che oggi è stato portato in panchina, quindi sostanzialmente un Alcamo senza attaccanti, quello che oggi affronterà il Civitavecchia. In tribuna sono presenti il dottor Raffaele Cipollone, vicepresidente della Lega Nazionale di Leppanti, l'onorevole Filippo Lentini, presidente del Comitato regionale siciliano e il dottor Antonio Sbardella, presidente del Comitato regionale laziare, queste alcune tra le autorità, soprattutto della federazione che oggi sono presenti qui in tribuna. Arbitra l'incontro il signor Cruciani di Pesaro, coadiuvato dai guarderini del Gatto di Fermo e Cingolani di Macerata, quindi una terna marchigiana. Dicevamo all'andata è stato 0-0, il Civitavecchia ha ben contenuto l'Alcamo che in pratica ha avuto soltanto una buona occasione fallita da Napoli a pochi metri dalla porta difesa da Luchetti, il quale si è dovuto sparcare i guanti nella partita andata soltanto in pratica negli ultimi minuti, quando è stato chiamato a un paio di interventi alquanto difficili. Oggi un Civitavecchia che quindi si presenta al di là della senza di Scarpini in formazione tipo, con Pernarella un po' accettato in avanti, con fronti che dovrebbe schierare quindi a centrocampo Lucci Stacchiotti che rientra nel capitano, lo sparificato, insieme a Benedetti esterno sulla sinistra e a staffa centrale. Allora Arrio, che partita ti aspetta? Ma senti, io innanzitutto vorrei così ricordare i tifosi, i supporti merazzoni che quest'oggi sicuramente avranno avuto da che pizzerirsi per presentare questa scenografia meravigliosa. Infatti addirittura ho saputo in qualche istante che addirittura da questa mattina, prestissimo, si è preparata questa scenografia, ecco ricordiamo che ci sono delle decisioni che portano appunto il nome di tutti i giocatori neroazzurri, di queste bandierine e poi a sentire il capo tifoso Giacomini la gran testa ancora deve iniziare e quindi ci attendiamo qualcosa veramente di meraviglioso. Che dire di questo incontro? Beh, io ricordo mercoledì scorso quando ho detto che non vedevo quest'Alcamo una formazione chissà chi, confermo quello che dicevo mercoledì scorso, sicuramente la Coppa ha preso la via giusta, quella neroazzura, quella che si dovrà conservare nel cassetto dei ricordi, un Civitavecchia che dovrà fare almeno gli Scarpini, ma non me ne voglia per carità il bravissimo giocatore neroazzurro, non credo che sia questa una mancanza così importante per un incontro che addirittura presenta un Alcamo, addirittura come facevi presente tu, assente di giocatori avanzati. Ecco quindi un Civitavecchia che va detto ritrova il suo professore e sicuramente uno stacchiotti a comandare il confronto, a comandare le giocate, è qualcosa di meraviglioso e non ci saranno problemi. Abbiamo trovato in Sicilia un grosso numero di spettatori, anche se quel numero di spettatori avevano un po' intimurito, come si diceva mercoledì scorso, i giocatori i giocatori, credo che tutti i suoi giocatori insiguri avranno trovato al fattore del pane per il loro gesto, tra virgolette. Tra l'altro certo bisogna ricordare che all'andata sia i dirigenti della squadra Finstriere, sia i tifosi conoscenti, di ammettissimi, anzi per un po' verrà consegnata una cosa per la ragione dell'Alcamo. Tra l'altro oggi qui c'è un po' tutta la Civitavecchia sportiva, c'è la pallamuoto, la SNC, c'è la pallavolo rappresentata dalla MAPLA che in pratica è stata promossa in E2, due giornate dalla fine del campionato, sono in vantaggio le giocatrici giallo-blu. E poi ci sono anche tutti gli altri sportivi, l'abbiamo ricordato tutti i vari gruppi dei tifosi, intanto si stanno riempendo anche gli ultimi vuoti sulle gradinate, mentre si attende l'uscita dei giocatori, ricordiamo prima dovrebbe avvenire la premiazione, così questo ricordo offerto dall'assessorato allo sport e turismo della regione Lazio al presidente dell'Alcamo. Per quanto riguarda l'Alcamo, dalle notizie che abbiamo, abbiamo già ricordato oggi una squadra spuntata, rientra oggi con il numero 3 questo vesco, reduce da diverse settimane di squalifica, mentre con il numero 9 c'è questo impastato un giovanissimo che in realtà non è un attaccante ed è rassente all'andata per squalifica. Direi un colpo d'occhio stupendo, poi ora vedremo le coreografie che sono state preparate dai tifosi nerazzurri che hanno imbandierato tutto lo stadio con festoni nerazzurri e tricolori. Si attende soltanto l'uscita a questo punto dagli sfogliatoi delle due squadre, ieri sono state prestate le ultime cure possiamo dire al manto erboto delle fattori che potrebbe forse ingannare a prima vista ma come sappiamo in realtà sotto appunto del manto erboto ci sono delle buche molto insidiose che più volte hanno causato anche degli infortuni. Ieri comunque per ora tutto il pomeriggio dopo l'ultimo allenamento della Civitavecchia i dirigenti e gli addetti della società nerazzurra hanno tentato di risistemare anche le ultime zone mentre intanto ecco le squadre che fanno il loro ingresso in campo davanti alla perna arbitrale ricordiamo composta dal direttore di gara il signor Turuciani di Pesaro con i guardalini del gatto di Pesaro e il cingolano di Pesaro. Civitavecchia ecco intanto vedete esplode la gioia dei tifosi con bandiere nero azzurre e sfumogeni, colorantissimi, una coreografia veramente che come ha detto Venturini in apertura ci eravamo un po' dimenticati qui dai denti della C2. la Başbietà! Grazie a tutti. 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 Benedetti. Grazie a tutti. 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 Napoli, Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con... con... e... Grazie a tutti. ... ... ... Grazie a tutti. Ante lui è munito verbalmente dal direttore di gara con il gioco enormemente fermo e per questo calcio di punizione in favore della squadra siciliana con Bambina e Adragna sul pallone. La distanza regolamentare fa osservare la distanza regolamentare l'arbitro, due uomini in barriera per lui e cinque vecchia sono Picciolo e Sacchiotti mentre sono in tre pronti alla battuta, fa prendere la rincorsa Scurto con il destro, prova, palla che termina sopra la traversa senza impensierire Lucchetti, la distanza indubbiamente era notevole, ha provato lo stesso la botta diretta in porta a Scurto, già ripreso il gioco con la rimessa effettuata su Baldolini. Ventiduesimo minuto in questo istante, sempre 0-0 con Pernarella che adesso va a recuperare il pallone per un attimo contro Morsello, poi il rimbio nel colpo di testa di Baldolini, Sacchiotti, impastato alla caccia del pallone, arriva prima Marcaccini e poi Buono, questa volta a Panticico di Lombardo su Benedetti. Dicevamo un'occhiata anche alle coppie che si sono formate, Mangia Pane ha disposto Lombardo sulla destra dove c'è Benedetti, Scurto libero, Morsello su Picello e Vesco su Pernarella mentre c'è subito qualche battimento tra Benedetti e Scurto, interviene subito l'arbitro insieme al capitano Sacchiotti a dividere i giocatori. Intanto sta per riprendere il gioco con un calcio di punizione in favore dell'Arcano. Discutono ancora, c'è Morsello adesso, mentre vediamo c'è l'abolizione per Scurto, probabilmente per proteste. Chiaramente da qui non vediamo bene cosa sia successo, hanno comunque continuato a scampiarsi. Delle frasi sicuramente molto carine in campo il giocatore e Scacchiotti è stato ammonito, ci sembra che soltanto Lunzi è finito sul tacuino del direttore di gara. Quindi al 24esimo minuto, cartellino giallo per il capitano Sacchiotti, con il gioco che sta per riprendere con questa punizione battuta da Scurto. La palla che spiove dalle parti di Adragna che riesce a proseguire, commette però il fallo a Solucci. Punizione questa volta in colore del Civitavecchia. Marcaccini su staff. Ancora Marcaccini, palla adesso sul stacchiotti anticipato da Napoli. Bambina apre il gioco, chiamando in avanti Regine. Poi cerca di servire sulla destra, molto bene. Ancora una volta Adragna, poi Castellano per attraverso il pallone. C'è un fallo su staffa. C'era stato il primo intervento di Castellano, poi è stato fischiato invece il fallo di Bambina. Adesso c'è spazio per Benedetti sulla sinistra. Ancora Benedetti si è sovrapposto Marcaccini, cerca invece al centro staffa, attenzione. Il tiro di staffa arriva Messina, poi per la rete, a cura, a cura, a cura, a cura. Non c'è gol, non ha oltrepassato la linea di porta secondo l'argetro. C'era stato correttivo da parte di staffa. Messina è arrivato su all'argetto. Il pallone si è riuscito a sfuggire sulla linea di fondo. È giunto Bernabella che va a spiegare un momento in porta. Nuovo intervento di Messina. Francamente è difficile stabilire sul pallone. Non giurerei, non giurerei che il pallone abbia superato interamente la linea di porta. Comunque ho visto molta indecisione da parte del direttore di gara e indecisione anche da parte del guardia lì. Infatti il signor Cruciani ha subito gettato gli occhi verso il suo collaboratore che è rimasto indeciso. Poi ha fatto segno di proseguire. L'azione è continuata. Intanto poi c'è stato un fallo su Morsello ci sembra. Che comunque rimane a terra. Quindi ancora quando siamo al 26esimo in questo istante. Ghiottissima occasione per il Civitalecchia. Con uno di quei dubbi analetici potremmo dire che su cui si può discutere delle ore. Io non vorrei discutere tanto sul pallone che sia entrato o no quanto la indecisione che c'è stata dall'arte dei giurici. Il guardia lì. Comunque si prosegue. Adesso c'è stato... E attenzione c'è... L'esporzione. Nei confrunti di stacchiotti. E c'è stato un... Fallo di mano probabilmente. Da un capitano che era stato ammolito pochi istanti fa per proteste. E adesso l'arbitro nuovamente ha estratto il cartellino giallo. Quando siamo al 27esimo minuto. Colpo di scena. 27esimo minuto. Colpo di scena. C'era stato probabilmente un fallo di mano da parte di stacchiotti. L'arbitro ha subito nuovamente estratto il cartellino giallo. Diciamo che a norma di regolamento ha ragione. Ha ragione in quanto il fallo di mano volontario va punito con l'ammunizione. Però chiaramente... Un'espulsione regalata all'Alcamo. Prima un cartellino giallo per proteste. Adesso quest'altra munizione è francamente un po' così regalata in quanto l'azione non era sicuramente pericolosa. Ora bisogna... Non so, non so se stacchiotti l'abbia colpita volontariamente diciamo. E a questo punto colpo di scena. Ora salirà l'alcamo. Colpo di scena. La Civitavecchia perde una pedina fondamentale. E si trova, come già all'andata, a giocare gran parte del match in dieci uomini. Un momento molto delicato questo per il Civitavecchia che sicuramente ora dovrà stare attenta perché l'Alcamo a questo punto salirà. A questo punto l'Alcamo giocherà... E' chiaro, giocheranno la loro carta i siciliani, si trovano questa situazione sul piatto d'argento. E al Civitavecchia mancherà sicuramente il farlo. Tanto Quatrana va a rinviare. Sul fatto di stacchiotti, francamente non ho visto, mi è sembrato un fallo di mano. Ma non so se sia successo o qualcos'altro, ma probabilmente si è toccato il pallone con una mano. L'arbitro l'ha considerato volontario e ha estratto il secondo cartellino. Si riprende comunque. Valdolini cercava Picciollo, stappa, dopo l'intervento di Regine ancora stappa all'indietro su Lucci. Adesso il Civitavecchia si dovrà assestare soprattutto nella zona centrale. Galli apre sulla sinistra per Marcaccini. Benedetti. Galli ancora. Lo scambio tra Lucci e Benedetti che poi cercava Bernarella. E lo pallone spiove direttamente tra le braccia di Messina che si accinge al rinvio. E nuovamente in palo laterale. Benedetti all'indietro su Marcaccini, Galli adesso. E vedete Staffa si è portato in posizione più accentrata rispetto a prima con Lucci, si è stretto. Quindi in pratica una situazione simile a forza quella dell'andata, dove all'andata fu espulso Scarpini sulla destra. Infatti come vediamo è proprio la zona destra del centrocampo per Azzurro. Adesso deve essere il Marco Sbarbilla. Intanto c'è stato un fallo su un giocatore dell'Alcamo. Partita che chiaramente adesso si è innervosita. Forse già dalle prime battute era anche quello che cerchavano un po' i giocatori dell'Alcamo. Dopo l'abbiamo visto. E' chiaro, infatti Stacchiotti è caduto nella trappola. Perché a questo punto l'Alcamo non ha più nulla da perdere. Le gioca tutte, le tenta tutte. Gli è riuscito così la trappola su Stacchiotti. E chiaramente il Cidavecchia ora dovrà penare. Intanto siamo al 31esimo minuto del primo tempo. Sempre 0-0 ma ricordiamo Cidavecchia da 4 minuti in 10 uomini per l'espulsione. In seguito doppiamo l'azione della capitano. Ecco in questo caso si fa importante il gioco a zona. Mentre attenzione viene chiamata in campo anche la barella. Anche se dagli esercizi che stanno facendo i sanitari dell'Alcamo non mi sembra si tratti di riuscortire le gambe. Infatti stavano... Forse si, si tratta di una botta in testa. Può riprendere il gioco Vescovo. Che vedete si porta ancora le mani al volto. Comunque riprende regolarmente la sua posizione in campo. con Morsello che va alla battuta del calcio di punizione. Palla che spiega dalle parti di Castellano. Nuovamente anticipa di testa da Quatrana. Poi Napoli su Adragna. Staffa adesso per la Civitavecchia. L'anticipo di Vesco su Picciolo. L'anticipo di Scurto di Morsello su Picciolo. Poi è stato Vesco a mettere in appalto laterale la rimessa di Baldolini. Sullucci. Cerca dalla parte opposta Pernarella che adesso è diventato capitano dopo l'espulsione di Stacchiotti. Benedetti ora a sua sinistra salta. Morsello e a questo punto io direi che forse un cartellino giallo ci sarebbe a tutto anche per il Civitavecchia. Infatti c'è il cartellino giallo. Mi sembra che sia il numero 9 impastato. Ad essere stato ammonito. E infatti vedete che torna al centro dell'aria impastato. Quindi il cartellino giallo anche per lui. Con Benedetti intanto è pronto alla battuta di questo calcio di punizione. 33 in un minuto. La palla che spiove. L'intervento di Lombardo. In anticipo su Staffa. E' stato providenziale in questa occasione l'intervento del difensore dell'alto. Baldolini adesso. Cerca la Pernarella. C'è il forno bellissimo da parte di Pesco. Su Pernarella che rimane a terra. Calcio di punizione per il Civitavecchia. Una partita veramente che ha cambiato molto. Nel giro di due minuti al 26esimo. L'occasione per Pernarella con il pallone. Che ha danzato sulla linea di porta. Non sappiamo chiaramente da qui se l'abbia oltrepassata completamente. Poi un minuto dopo l'espulsione di Stacchiotti. Intanto rimane ancora a terra Pernarella. Che ricordiamo si era infortunato già ieri in allenamento. Era addirittura dubbio la sua presenza per oggi. Poi Pronti lo ha voluto rinviare. Un giocatore di esperienza sa dare la zampata. Come in effetti era riuscito a fare anche al 26esimo. E così è in posizione. Benedetti sul pallone. Attenzione vedremo se doverranno in autore il solito schema. con la palla calciata sul secondo palo per Staffa. E infatti è così. Staffa ostacolato da Lombardo. Si prosegue per riparte l'altimo sulla destra. Il lancio lungo va a cercare l'isolatissimo Castellano. E lo colpo di testa di Quattrana su Gallo. Marcaccini sulla sinistra adesso. Ha di potesse impattato. Lo punta. Poi gioca ancora all'indietro su Lucci. Vediamo che in questo istante Benedetti è venuto a giocare a destra. Staffa. Prova a andarsi ancora dalla sinistra. Poi non c'è nessuno. Picciolo è venuto fuori a prendere il pallone. Non è riuscito a triangolare con Staffa. Il colpo di testa adesso all'indietro di Galli. Su Quattrana. Mentre vedete Benedetti che viene a prendere il pallone a destra. Controllato a zona del costo di Sant'O. Da Regini. Da Vesco lo salta Benedetti. E poi c'è il fallo. Rattissimo. Da parte di Marzello. Uno spintone. E ci dovrebbe essere ammunizione anche per Marzello. A questo punto c'è tanta curiosità proprio nel vedere cosa farà il direttore di gara ma credo... E c'è l'ammunizione anche per Marzello. Infatti c'è ancora un cartellino giallo. E credo che sia una cosa giusta perché il pallone su Benedetti... Certo era stato saltato Marzello in velocità da Benedetti che aveva provato possiamo dire la prima progressione in questo incontro. Aveva saltato l'uomo. E' stato spintorato quindi dopo impostato anche Marzello finisce sul taccuino del signor Cruciani. E' lo stesso Benedetti adesso pronto a battere questo calcio di punizione che arriva quando siamo al trentasettesimo minuto del primo tempo. Il punteggio sempre è inchiocato sullo 0-0 qui al fattori tra Civitavecchia ed Alcamo. Tutto pronto per la mattuta con il sinistro di Benedetti. Va a saltare Staffa che mette forse fuori causa anche Picciolo e Pernarella che erano andati a saltare dietro di lui. E la colpa di testa di Staffa termina direttamente sul fondo. Con Messina che nuovamente si accinge alla rimessa. E' quel pallone che va a spiovere dove c'è Lucci e stacca. Poi il colpo di testa di Picciolo commette pallo su di lui ancora Morzello. E' un nuovo calcio di punizione per il Civitavecchia mentre vediamo che dietro sono sempre fisse le due coppie centrali. Morzello su Picciolo e Visco su Pernarella con scurto libero. e Lombardo e Reggina su due fasce. Si è tentato di mettere in movimento per Larella e il pallone è stato troppo lungo. Nuovamente palla sul fondo per la rimessa dell'estremo difensore dell'Alcamo Messina. Troppo di testa di Staffa su Napoli. Lo recupera per un attimo Reggina. Poi Baldolini all'interno su Quatrana attaccato da Castellano che poi scivola. Quatrana comunque alleggerisce su Lucchetti che apre dalla parte opposta sulla sinistra. C'è Martaccini. E vediamo che Benedetti adesso sta facendo il pendolo da sinistra a destra. con Staffa e Lucci che come dicevamo si sono stretti al centro per superire alla mancanza di Stacchiotti. L'espulso al 27esimo minuto. Lucci attenzione ha rischiato questo retropassaggio sul Quatrana. C'era stato il presso di Napoli però adesso è Galli che avanza. Pallone ancora Lucci che avanza in zona centrale. Riesce a sapere. Baldolini sono a posizione sulla destra. Poi Baldolini due ore su di lui se c'entra il passaggio per Picciolo anticipato da Morsello che poi prova addirittura la percussione. L'intervento ancora in ritardo di Bambina. Poi però è stato Napoli a rubare il pallone. Ancora Bambina due ore su di lui. Staffa, recupera, iniziativa. Aprile, gioco. Pallone troppo lungo. Nessun problema per Messina che esce e rinvie immediatamente verso Castellari. Solatissimo il colpo di testa di Marcaccini. Baldolini adesso. Benedetti, attenzione. Sta, è la ballera per la staffa. E vediamo il tecnico Fronzi che ricordiamo è squalificato. È fuori dal campo. Sta imprecando adesso nei confronti di Baldolini. Baldolini, non bisogna sbagliare questi passaggi così facili. Adesso Quatrana ha provato a uscire. Contrastato da Bambina. Poi Marcaccini, attenzione. Baldolini, l'intervento di Regina. Staffa adesso. E poi c'è l'anticipo di Vesco su Pernarella. Attenzione, Vesco. Tre contro tre. Deve recuperare Picciolo. Palla adesso per Castellano. Interviene su di Lulucci. Non si può giocare in terra. Infatti è falso di posizione per il Civitavecchia. Già è rimasto in gioco il pallone. Benedetti, Galli. Ancora Benedetti. Galli. Marcaccini ora. Scambiano ancora, come dicono su Epo, i difensori. Nerozzurri. Ancora Galli. Cimitavecchia che adesso rallenta. Benedetti ora ha servito il colpo di testa di Lombardo. Come dettano il difensore dell'alcamo. Calcio di posizione per i nerozzurri di Ugo Fronti. Sono 41 i minuti di gioco. Picciolo è andato a saltare altissimo. Morsello. Palone che termina in fallo laterale. Non è riuscito infatti, impastato, a recuperarlo dopo il colpo di testa di Morsello. Che è andato ad anticipare Picciolo. La rimista sta per essere effettuata da Marcaccini. Su Benedetti. C'è Lombardo su di lui. Riesce a crossare. Benedetti sul secondo palo. Paltolini. Contrastato da Regina. Poi c'è adesso il conflitto che potrà andare in anticipo. Staffa per Catarella. Deve andare a saltare. Morsello. Mentre intanto è Mesco. Mesco, una regina, adesso è rimasto a terra. Si rimanerà comunque con il quinto tiro dalla bambierina in favore della Cipollecchia. 42esimo che scotta in questo istante ancora a terra Mesco. Benedetti pronto a calciare questo corner. Si rialza intanto il difensore dell'Alcamo. Tutto pronto quindi per la battuta del calcio in angolo da parte di Solimitti. Quinto tiro dalla bandierina per il Civitavecchia. Esplode la gioia di vera gioia di vera gioia. Tutte le marchioni in piedi e soprattutto Esplode la gioia sugli stanchi del Pattoni. 43esimo minuto. Civitavecchia. Il palleggio. C'è il vice staffa. Aveva già provato in questo primo scorcio di gara varie volte la confusione di testa. Non aveva ancora incontrato lo specchio della porta. Questa volta ha messo il pallone sul secondo palo. Dopo il calcio di benedetti. La colpa di testa sul secondo palo dove Messina non è potuto certo arrivare. e quindi adesso Civitavecchia seppure invece in vantaggio sull'Alcamo dovrà essere la squadra siciliana ora a cercare di recuperare a scoprirsi o a prendere il fianco alle offensive dei nero azzurri per le 10 adesso vuole un intervento però di Scurto ad anticipare lo scambio con Piciollo. Adesso Adragna ancora scambia con Scurto balla sulla destra ancora per Adragna c'è Quattrano su di lui Scurto entra in area attenzione salta due giocatori l'uscita di Mugetti a interrompere l'azione Buonissimo Chetti prontissimo nel primo intervento di rilievo della partita era stato molto provo Scurto a saltare due giocatori nerazzurri bisogna comunque essere più attenti mi sembra che di tanto in tanto il Civitaret bella un po' una tramontana e permette troppo a questa posizione dell'alto perché a questo punto deve scopirsi il vicinato deve giocare concentrato deve solamente attendere l'avversario intanto a scatare il 45esimo ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare e giustamente adesso i nerazzurri devono essere pronti a sfruttare l'alto sicuramente dovrà scoprirsi vedremo cosa dirà Mangiapane negli spoglietoi ai suoi giocatori e ci ritroveremo forse più o meno nella stessa situazione dell'andata praticamente attenzione adesso c'è il rinvio di Marcacini palla controllata da Regina che la rispedisce sulla destra dove però ancora Marcacini va ad anticipare Adragna adesso è Benedetti sulla sinistra salta nettamente Napoli poi prova a saltare anche Lombardi in velocità deve intervenire Scurto in chiusura ed è ancora Scurto che riparte sulla destra Picciolo però gli va a rubare il pallone per un attimo poi è fallo laterale in favore del Civitavecchia proprio e devo dire che oggi contrariamente quattro occasioni Picciolo e Tonico e Dinamico va a recuperare pallone importante in mezzo campo soprattutto con la squadra in dieci adesso c'è però Benedetti che sbaglia l'appoggio Napoli recupera subammina il rinvio di Marcacini siamo in recupero adesso il rinvio di Messina un po' di testa di Baldolini che commette fallo sul Castellano un calcio di punizione per l'alte sono quasi 47 in minuti di gioco 1-0 per il Civitavecchia la punizione è battuta da Castellano sulla destra può avanzare Lombardo pallano un momento in area il colpo di testa di Impastata che prolunga verso Vesco e c'è il pallo un gioco pericoloso da parte di Vesco già battuta la punizione probabilmente però l'arbitro infatti farà ripetere questo calcio di punizione mentre protestano i giocatori dall'alteamo nei confronti del direttore di gara tutto è pronto comunque per riprendere il gioco Quattrana mi sembra che il direttore di gara non mi usi lo stesso metro che ha usato nei confronti di Stacchiotti nella prima comissione ed ecco finisce il primo tempo vediamo Gurtini che ha qualcosa da dire a Baldolini finisce questa prima frazione di gioco Civita Vecchia 1 1 1 1 0 40 3 minuto rete di Saffa mi raggiungi però in 10 dopo l'espulsione di Stacchiotti è venuta al 27 minuto per doppia ammunizione brevissimamente arriva un commento un Civita Vecchia che nonostante la mancanza di Stacchiotti è il solito Civita Vecchia un po' nervoso sicuramente c'è l'importanza della posta in paglio benissimo a risentirci per i secondi 45 minuti di Civita Vecchia al campo secondi 45 minuti di questa finale della coppa l'Italia dilettanti Civita Vecchia al campo 1-0 per il Civita Vecchia a termine del primo tempo in giù della rete messa a segno da Gianluigi in Stacchiotti al 43esimo minuto calcio d'angolo di Benedetti e colpo di test di Stacchiotti che ha messo fuori causa Messina non ci sono state tra l'alegra giudicare dalle quadre che sono tornate in capo sostituzioni inizia la ripresa con il Civita Vecchia che manovra subito ricordiamo Nerazzurri in 10 dopo l'espulsione al 27esimo minuto di Stacchiotti adesso il lancio di Quotrana a cercare Picciolo il colpo di testa è di Morsello però poi staffa commette il pallo e calcio di punizione per l'Alcamo adesso dovranno essere i siciliani a rischiare sicuramente di più per cercare di riequilibrare la sorte dell'incontro di il Civita Vecchia che dovrà essere pronto a sfruttare qualsiasi errore qualsiasi sbilanciamento della formazione della tecnica Paolo Mangiapane il colpo di testa all'invietro di Marcaccini la palla controllata da Galli pressato da Castellano sbaglia Galli poi Castellano reclama per un fallo con la rifaticiera si continua a giocare il numero di Benedetti che ora serve Picciolo rallenta l'azione il centroavanti della Civita Vecchia ancora Benedetti ora sulla destra Baldolini cerca Pernarella muoce la sovrapposizione di Baldolini la cross non c'è nessuno esce Messina sicurissimo e blocca e la rendi ora della fortiera dell'Alcamo nella zona di Vesco anticipato da Staffa la palla poi spiove dalla parte opposta del campo Marcaccini la protegge l'attacco di Castellano lo lascia sfidare il fallo laterale messa effettuata dallo stesso Marcaccini su Quatrana Lucci ora attaccato da Vesco che vedete ha notevolmente avanzato il suo raggio di azione come aveva fatto all'andata a Dragna Pernarella in posizione centrale c'è Benedetti sulla sinistra eccolo servito il cross a cercare Picciolo colpo di testa invece di Marcello Lombardo attaccato da Benedetti che poi temporeggia il remio di Lombardo su Adragna palla a Castellano ora attaccato da Lucci e poi Baldolini non si tenga Castellano in passato Baldolini per un attimo recupera poi però subito Regina e ora nuovamente Castellano Adragna riesce a passare in mezzo a due a Arazzurri poi Baldolini contrasta Napoli commette su allo treccio di munizione per l'Arch ecco la punizione Adragna ancora lui sulla sinistra mette dentro cercava Castellano trova invece Lucci Stefano Lucci tranquillissimo prova la pattuta lunga in avanti ora c'è solo Pernarella il suo colpo di testa su Picciolo che poi non raggiunge il pallone che termina in falco laterale staffa però recupera Pernarella cercava il triangolo recupera iniziativa riprende iniziativa però l'Alcamo provava a andare via sulla destra Lombardo lo chiude molto bene Benedetti che gli impedisce di raggiungere il pallone che termina in fallo laterale mi ricordo le riprese di questo incontro nella squadra del pool sportivo di IRC telecronista Massimiano Grosso con il commento di Antonio Venturini interviste a bordo campo di Antonio Risi intanto c'è la pulizione per l'Alcamo sta per essere battuta da Morsello prende una rincorsa a parte con il destro colpisce male il pallone termina direttamente in collo laterale mentre sono trascorsi 4 minuti dall'inizio della ripresa un Cidavecchia mi sembra tranquillissimo si un Cidavecchia tranquillissimo un Cidavecchia che però si trova in difficoltà in fase di costruzione gli manca molto Sacchiotti questo lo sapevamo in ogni modo è un Cidavecchia tranquillo ma che deve rimanere soprattutto tranquillo non c'è troppi spazi che mi sembra come dicevo la prima parte del confronto è un Cidavecchia che offre troppi spazi Galli adesso in possesso di Palla sulla sinistra per Marcaccini Benedetti vedete diciamo l'apertura dal fondo traditore del fattore la palla rimbalza proprio mentre Benedetti cercava di stopparla e termina in la rimessa sta per essere effettuata da Regina su Castellano l'anticipo di Marcaccini poi da Lucia Benedetti nuovamente a Marcaccini all'indiatore su Galli che lascia spilare a Quatrana il Pressinger di Vesco era partito che prendono a diagonale su Valvolini poi il pallone però è giunto ugualmente all'esterno del Cidavecchia adesso Napoli è andato a rubare la stappa avanza Lucci riesce ad impedire il passaggio l'appoggio a Castellano ancora però l'alcamo con Bambini adesso ancora Castellano prova il tiro Regina colpisce d'esterno malissimo beccato dal pubblico Regina palla che termina sul fondo con Lucchetti che controlla tranquillamente il portiere s'ha chiamato soltanto nel primo tempo ad un intervento di rilievo al 44esimo quando è andato a chiudere molto bene il suo scurto che aveva fatto un'impulsione dalle retrovie il rinvio ora di Quatrana e il colpo di testa di Morsello in anticipo su Bernarella adesso Lucci Castellano però apre sulla sinistra c'era Vesco che forse era terminato con il conto irregolare comunque il giocatore ancora è stato avanzato da Mangiapane non riesce a raggiungere il pallone che termina in fallo però nel primo tempo Vesco aveva controllato Bernarella adesso invece è stato spostato in avanti stabilmente dal tecnico dell'11 siciliano mentre si prepara una sostituzione per l'Alcamo con Campanella che ha terminato gli esercizi di riscaldamenti di riscaldamento probabilmente si modificherà il quadro tattico dell'Alcamo Campanella è un difensore potrebbe essere impiegato come libero ma adesso staremo a vedere ecco il cambio che avviene al sesto minuto della ripresa viene richiamato in panchina il numero sette sembra impastato infatti è così al suo posto Campanella dal sesto minuto della ripresa intanto nuovamente gioco fermo con un razzurro che è rimasto a terra e vedete intanto Mangiafane dai suoi le indicazioni dopo questo cambio e vedete come abbiamo anticipato Campanella si va a disporre alle spalle della difesa con Scurpo che dovrebbe avanzare la sconanza di azione Quadrano ora pronto alla battuta del calcio di punizione la palla cerca Benedetti sulla sinistra ottimo l'aggancio del giocatore della Civitavecchia che presenta una pistola facciatura alla braccia destra è stato messo giù da Regina Benedetti calcio di punizione quindi nuovamente per il Civitavecchia con lo stesso Benedetti che si è rialzato pronto alla battuta del calcio di punizione un uomo in barriera si tratta di Castellano per Messina il sinistro di Benedetti intervento però della difesa dell'altro ma recupera Marcaccini che prova l'azione in percussione contrastato ma ancora Marcaccini controlla con il petto si porta la palla sull'altro sinistro sempre molto bene Benedetti a spazio carica di destra il cross corto di destra di Bernarelli e palla che si è umilato di pochissimo sulla traversa ottima azione della Civitavecchia al ottevo minuto quasi nono della ripresa bell'iniziativa da parte di Marcaccini che ha servito Benedetti il cross perfetto per Bernarelli la sua torsione da una posizione certamente non facile spara la porta Messina è volato non è arrivato a raggiungere il pallone che comunque ha oltrepassato di qualche centimetro la traversa Civitavecchia quindi che torna a farsi vivo dalle parti dell'estremo difensore dell'alcamo e adesso Civitavecchia che si fuisce di questa rimessa laterale con Baldolini che è pronto a riprendere il gioco gli va incontro Staffa tenta l'anticipo Napoli ancora Staffa che riesce a servire molto bene lì dietro lo stesso Baldolini il cross poi Benedetti c'è stato Rindarelli che è terminato a terra e comunque non è riuscito a raggiungere il pallone Marcello ancora Benedetti però punta Scurto serve in posizione centrale Luci sul destro Salta buono c'è fallo da parte dello stesso Scurto il calcio di punizione pallo da parte di Regina e di Scurto non vediamo bene calcio di punizione quindi per il Civitavecchia che adesso sta prendendo iniziativa anche nella ripresa attenzione al contropiede dell'Alton ben 5 il giro sul pallone con Pernarella Staffa Benedetti e Picciolo che ora si allontana più indietro Luci Luci però adesso invita Galli a prendere in consegna Vesco pronto a sputtare un eventuale contropiede Pernarella è uno schema la battuta poi di Iorete di Pernaretti è doppio dalla Ciro iniziativa 6 minuti della ripresa punizione di Pernaretti e Messina con il femore in questa occasione ha lasciato sfidare il pallone e l'intirare pensato il portiere dall'Arcamo un intervento con i piedi ci è sembrato la palla si è insacchietta a film di palo potrebbe essere il gioco che chiude l'incontro che chiude questa Coppa Italia con questa punizione di Roberto Benedetti che arriva alla decima minuto della ripresa 2 a 0 per il Civitavecchia Civitavecchia in 10 uomini che comunque non sta lasciando nulla all'alte sicuramente il giocatore che poteva mettere al segno della punizione infatti pensavo che mancava lo specialista Sacchiotti e tra me dicevo i piedi buoni ce li ha Benedetti Benedetti sicuramente è un giocatore che a volte sembra smarrirsi che sembra non trovarlo in campo ma poi si sa i giocatori con i piedi buoni vengono fuori e Benedetti crede che abbia messo in segno il gol che piega definitivamente le gambe alla formazione dell'Altano che a questo punto può giocare solamente valore di firma Benedetti che aveva già risolto altri incontri lo ricordiamo sempre su punizione a Firenze contro Limpuneta ricordiamo anche altri suoi calci di punizione e adesso si sentite la gioia dei tifosi che hanno riempito i fattori si prepara già la festa per il novantesimo chiaramente questo secondo gol si sblocca un po' tutti perché come si sa se per caso un pareggio sarebbe stato probabilmente qualcosa che non ci stava alla vigilia di questo match e credo che questa seconda rete dia veramente alla formazione più quadrada la formazione che più ha fatto vedere il bel gioco questa benedetta Coppa Italia e ora l'Alcamo si prova nuovamente a costruire qualcosa ma ormai tre quarti di coppa sono nella bacheca neroazzura però c'è da dire anche una cosa che non finisce qui il Cevina Vecchia Calcio il Cevina Vecchia Calcio non avvidenza da voi con il Varese a questo punto già c'è la mancanza di stacchiorti che sicuramente sarà finito con due giornate essendo il capitano dell'istruzione sicuramente saranno due giornate e a questo punto credo attenzione però colpo di testa di Atragna palla che termina sul fondo era stato comunque prontissimo Lucchetti a staccare con il suo colpo di Revi mi sembrava solo traiettore il portiere in raggiù intanto si prepara un cambio per il Cimitalia Brandi Spada se non vado errato siamo al 14esimo minuto della ripresa Brandi Spada è pronto a entrare in campo vediamo a picciolo al posto di Picciolo probabilmente Picciolo lascerà il terreno di gioco Pernarella e infatti Pernarella si toglie la fascia già è stato un miracolo che Fronti l'abbia potuto schierare in campo e adesso capitano diventa Marco Galli Marco Galli capitano tra l'altro una soddisfazione uno dei pochi Civita Vecchiesi non è in campo oggi caputo un altro Civita Vecchiesi per Ascia infortunato al tempo insieme a Brandi Spada che ora entra e all'attente gli altri giovani che sono in panchina Galli è l'unico doveroso doveroso abbraccio da Pernarella lascia il campo probabilmente aveva segnato forse un gol anche lui va in panchina sì volevo dire doveroso abbraccio da Pernarella e il giocatore che è entrato in questo di Brandi Spada dicevo Mazzemigliano devono fare attenzione questi giocatori perché ci sono giocatori che sono in l'infida e questo potrebbe costare caro nel confronto con l'Inervarese ecco questa sarebbe una cosa che mi discracerebbe certo bisognerà anche vedere magari il regolamento potrebbero non so se verranno conteggiate comunque le ammunizioni chi rischia quelli che rischiano sono Galli Quatrana lo stesso Brandi Spada che è entrato che mi sembra fino adesso non sono stati ammuniti no finora no finora no non hanno anzi hanno girato in maniera molto pulita hanno eliminato falli che potessero portare un cartellino giallo ancora una pulizia all'alto con l'uscita di Lucchetti sicurissima c'è anche un fallo da parte di un attaccante dell'alto calcio di punizione quindi per il Civitavecchia quando abbiamo superato il quarto d'ora della ripresa 2-0 per il Nero Azzurri in questo finale adesso addirittura una ola per il pubblico delle popolari dello stadio Giovanni Maria Fattori è già iniziata la festa intanto si continua a giocare però Marcaccini Benedetti controlla questo pallone la sovrapposizione di Marcaccini mantiene il controllo del pallone Benedetti e poi lo serve all'esterno sinistro il pallone di Lombardo rimane a terra Marcaccini calcio di punizione quindi per il Civitavecchia si alta l'urlo vecchia vecchia anche qui in tribuna ricordiamo spettatori oltre 2.700 intanto nuovamente gioco fermo questa volta calcio di punizione per l'Alca un'Alca chiaramente che mi sembra prastornato dopo il raddoppio di Benedetti addirittura ora viene Messina in avanti a battere questo calcio di punizione Messina che mi è sembrato colpevole in occasione della punizione addirittura forse non si aspettava il pallone ma mi sembrava il pallo suo e ha tentato un goffo intervento con i piedi sicuramente c'è da dire qualcosa a proposito di quel calcio di posizione e del comportamento di Messina ezione Ludetti ancora grandissimo poi aiutato dal palo occasionissima anche per l'Alcamo quando siamo al diciottesimo diciassettesimo della ripresa occasionissima per l'Alcamo e sono sbagli per che si pagano adesso addirittura crampi per Adragna già all'andata Napoli aveva sbagliato un gol da pochissimi passi è stato bravo anche Lucchetti ma ha trovato la soluzione di potenza Adragna da due passi Loris Lucchetti criticato durante la stagione ma determina attenzione a questo calcio d'angolo con la palla colpita da Galli impattata ancora poi Castellano va sul fondo il destro il cross attenzione il topo di testa di Lombardo e si vede che è un difensore è indubbiamente in questo momento sì forse anche loro già con la testa erano troppo presto nel novantesimo anche i giocatori bisogna recuperare un po' di concentrazione non vorrei che questo primo caldo abbia un po' tagliato le gambe a questo Ciladec che sia stanco perché ripeto mi sembra che stiamo citando un po' troppo a questo atto e noi sappiamo che la difesa di Ciladecchia è una difesa ben valida e che sicuramente non è facile perforare mi sembra che in questo secondo tempo soprattutto non stia giocando con la tensione dovuta dicevamo di Loris Lucchetti criticato durante l'anno ma determinante in questo finale di stagione io ho dichiarato che era un pazzo che criticava Lucchetti e questo Lucchetti mi sta dando ragione determinante in Veneto addirittura due grandi parati in calcio di rigore neutralizzato con una freddezza veramente da grande portiere e ora sto confermando attenzione ancora una volta lasciato solo dall'altra parte corpialmente un giocatore dell'alcamo che è andato a schiacciare il pallone a terra questa non è solo una reazione dell'alcamo una reazione di un che è giusta che ci sia come mi sembra questo come mi sembra Lucchetti è chiaramente in là c'è il Benedetti che è lo spazio è partito in velocità va a chiudere Campanella molto bravo a prendere il tempo e diciamo sicuramente dalla parte destra della difesa della Civitavecchia due volte prima Gombardo poi mi sembra ora in questa nuova occasione se non vado a rato Regina sono stati lasciati liberi bravissimo ancora Loris Lucchetti adesso Civitavecchia nuovamente in avanti siamo al ventesimo minuto ancora una indecisione tra il direttore di gara e il suo collaboratore si continua a giocare Marcaccini Galli era sicuramente in calcio d'angolo dentro il pallone per Brandi Spada nessun problema per la difesa dell'alcamo che però poi l'alcamo che c'è troppo lo recupero Civitavecchia sulla destra con Staffa che tende il giro in porta palla che termina sul fondo ottima la fondata di Staffa che sicuramente se inquadra una volta fa male già Luigi Staffa io ricordo alla spicciolata dei vari giocatori una stagione martoriata per lui all'inizio numerosi infortuni poi qualche Domenico per rientrare in forma e poi l'esperienza uscita fuori un vero e proprio giolli schierato quando c'è stato bisogno in mezzo al campo sulla fascia in avanti addirittura dopo l'espulsione di Quatrana in Veneto anche in difesa giocatore importantissimo di grandissima esperienza intanto uno di proprio di calci d'angolo Lombardo ha avuto una grossissima occasione c'è ancora qualche battito tra Bambina e Lucci e attenzione ora non bisogna assolutamente queste proteste stai vincendo inutile non bisogna cadere in facili nervosismi Castellano adesso viene in avanti anche Borsello sulla destra Scurto Marcaccini lo punta Scurto se ne va prova il tiro sul primo palo non si lascia sorprendere farla renta non si lascia sorprendere Loris Lucchetti Benedetti ora facendo di andar via Figiolo l'anticipo però di Lombardo e poi il pallo del centroavanti Neazzurro mentre siamo al ventiduesimo minuto della ripresa Civitorecchia 2 Alcamo 0 adesso il pallo e c'è l'ammunizione anche per Staffa pallo di Staffa su Morsello rimane a terra anche Gianluigi Staffa autore della prima marcatura con il quale il Civitavecchia ha sbloccato la situazione al 40 minuto del primo tempo e intanto vediamo si attende che Staffa si rialzi e ancora a terra vedete Burtini da indicazioni a Brandi Spada e vedete l'arbitro lo attende per mostrargli il cartellino ammunizione quindi anche per Gianluigi Staffa tutto pronto per riprendere il gioco con la punizione che sta per essere battuta da Castellano ancora pochi istanti tutte schierate in linea su limite dell'area il Civitavecchia Castellano ancora lo serve la disposizione dei compagni cerca Adragna che si gira proprio al destro ribattuto ancora da Staffa poi il rinvio di Baldolini va a saltare Vesco recupera però Lucci respiro per il Civitavecchia Campanella adesso momenti in avanti va a saltare Quadrana che poi lascia sfilare il pallone protesta Adragna balla Lucchetti che può prenderla con le mani invitare i suoi a salire e rinviare questo pallone quando siamo giunti al ventiquattresimo della difesa fallo laterale adesso Murillo Civitavecchia viene Marchaccini ovviamente se la prende comoda il giocatore Nerazzurro per tutuare questa rimessa gli va incontro Brandispada la malla invece lunga sta dal cuore verso Picciolo che sono sulla sinistra contrastato da Morsello più veloce muore il totale da parte del centramenti Nerazzurro con Morsello che si rialza subito viene il portiere Messina a battere questo calcio di punizione è un Alcano che ha avuto un ritorno di fiamma subito dopo il quarto d'ora della ripresa con due occasionissime soprattutto la prima con Abragna bravissimo Loris e Lucchetti ad opporsi e a deviare in angolo forse anche poi con l'aiuto del pallone adesso il pallone su Picciolo che rimane a terra ancora necessario forse l'intervento del massaggiatore Libri che sta rientrando da altra parte del campo mentre si prepara un nuovo cambio per l'Alcamo è Gerbino che sostituirà il numero due Lombardo sostituzione che arriva quando siamo al ventiseesimo della ripresa ricordiamo che già l'Alcamo era venuto con un giocatore in meno in panchina squalificati oggi squalificato il bomber fascella fuori per motivi disciplinari l'altro punta volo infortunato in panchina capitano Coraci un cartino sinistro è effettuato il cambio Lombardo era stato spostato su Picciogno adesso vedremo questo Gerbino che posizione andrà ad assumere ripetiamo da quando è stata effettuata la prima sostituzione al sesto minuto del secondo tempo Campanella è andato dietro a tutti i difensori con scurto avanzato sulla destra e Vesco già da lì sul secondo tempo più stabilmente in avanti è stato comunque Adragna ad avere l'occasione migliore con lo stesso Lombardo che ha appena lasciato il rettangolo di gioco si rialza intanto il centroavanti Picciolo pulizione battuta da Quatrana valla che spiore dalle parti di Brandi spada la sfonda di testa il colpo di testa poi di Morsello scurta problemi a controllare Lucci gli ruba palla ora vada aprire sulla sinistra il centrilepista Meratturo che poi spazza questo pallone direttamente il pallo laterale non vogliono correre rischi concentratissimo Lucci ricordiamo anche questo giocatore importantissimo difensore centrocampista giocatore di una grinta unica non lascia giocare l'avversario importantissimo e tanto ancora abbandonarsi da segno di nervosismo questa volta diciamo Lucci importantissimo per Mario soprattutto nella partita di andata dove si temeva per l'assenza di Stacchiotti ha contenuto l'alcamo a centrocampo in una maniera incredibile facendo filtro e sostituendo Paolo che fu senza altro sia mercoledì attenzione c'è adesso poi c'è andata l'occasione per Vesco con Lucci con le pane ha recuperato subito comunque la sua posizione il portiere Lucci che sicuramente ha trovato il tecnico Nero Azzurro soprattutto nella fase di Doppia Italia ma io volevo dire un'altra cosa di questo direttore di gara non mi sembra che abbia fatto abbia commesso dei grossi errori però mi sembra che delle volte non c'è in partita mi sembra che un po' indeciso permette un po' troppo si inventa alcune cose che non andrebbero sicuramente inventate non mi rifinisco perché l'ha alle gole che addirittura ha fatto inervusire anche il sindaco di Civiretti che ho visto alzarsi è tutto sommato forse neanche all'espulsione una volta che ha considerato volontario quel fallo di me il regolamento da Stocchiotti è espulso perciò non credo che abbia fatto grossi errori però non mi sembra di vederlo in partita deciso come invece chiede un impegno così importante forza direttore cresce la personalità ecco adesso l'intervento di Baldolini su Napoli ancora Napoli però all'indietro Castellano poi per un attimo poi si gira Adragna e palla che termina su sconto cioè Baldolini donorante voleva un calcio d'angolo Adragna non viene concesso due giocatori nero azzurro e terra si tratta di Baldolini e di Staffa no Staffa ma adesso sta andando da Baldolini l'altro nero azzurro dovrebbe essere Marchaccini e si tratta di Krampi a giudicare da il movimento che sta facendo compiere Galli Krampi sia per Marchaccini che per Baldolini forse influisce anche il caldo che da pochi giorni è arrivato qui a Civitavecchia ci avviciniamo intanto alla mezz'ora si infatti come dicevo poco anzi probabilmente il caldo ha punito il Civitavecchia questo caldo che ci tiene compagnione qualche giorno perché altrimenti non mi spiego alcune il comportamento soprattutto di alcuni giocatori nero azzurri comunque c'è da considerare anche che c'è che gioca invece bisogna anche sopperire tutto sommato attenzione adesso lui ci ha mancato il pallone l'apertura sulla destra per Scurto è stata di Reggira poi il colpo di testa non sta sicuramente giocando male questo Alchiamo diciamo che l'Alchiamo sentiamo stata una buona squadra ma per questa categoria probabilmente il Civitavecchia che è troppo superiore troppo superiore che fuori gioco si alza la bandiera del guardalini poi il pallone aveva colpito anche il palo il regolamento dice ci sarebbe ammunizione che permesso ad essere fiscali come lo è stato nel caso di Stacchiotti infatti adesso volevo dire ad essere fiscali c'è regolamento anche in questa opzione il direttore di gara però lascia proseguire si riprende con una punizione a favore del Civitavecchia per fuori gioco Guatrana la palla spiove dalle parti di Picciolo che poi però lascia saltare Morsello senza problemi adesso Scurto sulla destra si sovrappone il nuovo entrato Germino invece Scurto serve Castellano che da dopo ad arretrare la sua agitazione posizione centrale poi Regina sbaglia l'intervento recupera però Morsello ancora sulla sinistra ha spazio di fronte a sé avanza ancora Morsello poi perde palla si allunga troppo il pallone nessun problema per Lucci su Baldolini recupera il gerbino poi contrastato da Brandispada ancora iniziativa però in possesso dei siciliani adesso avanza ancora Castellano apre sulla destra dove però Marcaccini anticipa nettamente Scurto e serve Brandispada Lucci Picciolo e adesso Accademia il bel era stato buono aveva seguito però molto bene Staffa Napoli le intenzioni erano buone ancora l'alchiamo sulla destra ora la Dragna per Scurto ancora Dragna cerca all'esterno molto bene attenzione per Regina che incrocia il tiro sul secondo palo vada fuori dello specchio non riesce ad intervenire nessun giocatore siciliano nessuno a confermare le parole che ho detto prima è una difesa che rimane un po' a guardare perché queste cose non sono mai riuscite a nessuna formazione che ha incontrato Morsello è arrivato sul secondo palo non è riuscito fortunatamente per il civito vecchia a impattare il palmone nuova occasione sfumata per l'alchiamo che a questo punto sta commettando anche troppi errori Brandispada se ne va e poi l'uscita di piedi di Massena Picciolo ancora su Brandispada che poi tenta di restituire e il pallone permette l'intervento di Gerbino ancora il civito vecchio però con Picciolo Brandispada aveva saltato Campanella che aveva provato a strattonarlo poi ci sarebbe stata l'espulsione lo ha lasciato andare l'intervento di Messina poi è subito dall'azione adesso da scurto sulla sinistra cercava eccolo con il pallone grazie all'errore di Baldolini poi ci si alza anche la bandiera della Guardolini aveva cercato scurto un compagno sulla sinistra adesso è Staffa che avanza però dalla parte opposta arriva incontro Napoli e commette il pallo ed ecco i preparativi per la premiazione siamo al trentaquattresimo minuto del secondo tempo attenzione colpo di testa di Brando Spada questa volta nessun problema per Messina mentre ecco il tipo in vista della protezione è arrivata il capo di forza della cazzurita in tribuna a vento su Castellano adesso alla perra il colpo di testa di Besco poi la rinvio di Quatrana va a recuperare dalle retrovie dell'alcamo Campanella battuta ora di Castellano prolunga per un attimo Regina ancora l'alcamo in possesso l'iniziativa con Marsello sulla destra palla 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 spunto cross di troppo sulla portiera nessun problema per Lopeto che con le mani rimette in movimento sulla destra Picciolo mentre si prepara mentre mancano dieci minuti il 90esimo si prepara il secondo cambio per la città adesso con Rocchetti pronto ad entrare vediamo all'apposto di chi sarà schierato Rocchetti ancora qualche istante ed è Picciolo il centro avanti Picciolo quando siamo alla 30 seconda il secondo tempo lascia il campo per Rocchetti un giovane questo rappresenti Picciolo anche oggi una prova generosissima si come al solito le prese le date cosa ti è successo si niente credo una contrattura una stiramentina non lo so Castellano ora ultimi salti ma ormai c'è ben poco da fare i siciliani hanno avuto le occasioni per riaprire il match non le hanno sfruttate al meglio le hanno avute forze soprattutto perché gliela concesse un civito vecchia più più tempo del solito non le hanno sfruttate e siamo 2 a 0 quando mancano 9 minuti al termine al novantesimo la punizione di Castellano l'anticipo di Marcaccini falloso questa volta è sicuramente un Alcamo che non si dà per vinto gioca tutte le carte sino all'ultimo Poganzi stava portando addirittura c'è del nervosismo tra i giocatori nel fare costruire alla disperata seguiamo questo lascio di punizione mentre vediamo un fronti tesissimo ancora nonostante i due gol di vantaggio la punizione sta per essere battuta da Castellano con il sinistro Pallati Squila a scuola destra invece di Lucchetti non è riuscito ad imprimere l'effetto non è necessario per rientrare il pallone Lucchetti ha controllato la sfera che si è persa sul fondo è veramente adesso manca poco mancano 7 minuti al novantesimo e vedere le tribune popolari così che prepara una festa è veramente uno spettacolo il rinvio ora di Quatrana va a saltare su staffa anticipato questa volta adesso Lucchetti protegge il pallone in mezzo a due perzari ne salta un terzo poi è contrastato riesce a servire ugualmente Margolini che mi sembra affaticato ancora ora Rocchetti Totella suo primo pallone attenzione glielo rubano i giocatori dell'Alcamo Adragna ritorna per un attimo Rocchetti ma apre Adragna sbaglia però il suggerimento sulla destra verso Scurto riparte la civita vecchia da brodespada a Gianluigi staffa Marcaccini Benedetti controlla poi forse in maniera anche regolare continua a giocare da terra recuperano comunque il giocatore dell'Alcamo con Scurto che si accentra non sa neanche a chi passare il pallone mi sembra che anche l'Alcamo abbia tirato i remi in barca adesso c'è un fallo in gioco pericoloso e anche Gianluigi staffa si accascia colpito dai crampi un civita vecchia diciamo sta pagando il caldo sta pagando la stanchezza forse di tutta una stagione e sta pagando il fatto di giocare in dieci per superare la mancanza di un uomo il editore staffa ad essere colpito dai crampi finalmente viene consentito l'accesso sul rettaglio di gioco al massaggiatore al medico nero azzurro ci avviciniamo al quarantesimo minuto due a zero per il civita vecchia siamo a un passo proprio dalla conquista della coppa ancora si perde qualche istante mentre sono tutti pronti già a bordo campo fotografie scenoperatori per la premiazione ricordiamo ci sono per la federazione italiana giocalcio il dottor Raffaele Cipollone vicepresidente della lega nazionale dilettanti il dolorevole Filippo Lentini presidente del comitato regionale siciliano il cavaliere Antonio Sbardella presidente del comitato regionale laziale oltre alle varie autorità cittadine la punizione è già battuta da Quatrana con il pallone che termina direttamente il pallone laterale stupende queste immagini di tifo con le popolari che stanno iniziando la festa probabilmente come ci aveva anticipato ieri ci avevano anticipato il rappresentante della popolaria Lerazzurra poi il carsello si sposterà in una città 4 minuti al termine la punizione di Castellano il pallone che viene lasciato sfilare da Rocchetti Baldolini cerca ancora Rocchetti lascia sfilare l'attaccato da Morsello ancora Rocchetti vince il rimpallo staffa 3 contro 3 poi recupera molto bene però l'Alcamo riparte con Castellano ma Baldolini per un attimo anticipa Morsello poi va a lottare a Dragna conquista il pallone lo lascia Castellano e vedete non sa neanche lui cosa farci cerca questa battuta verso Pesco ma come dicevamo anche l'Alcamo ormai ha tirato Irene in barca Castellano l'indietro su Gerbino cerca sulla destra Scurco vediamo se riesce a mantenere il pallone in campo prova il cross palla che termina direttamente sul fondo e ci si prepara ecco Stano scendendo anche il dottor Cipollone ci si prepara alla premiazione mentre Benedetti non riesce a rancciare questo pallone rimessa per l'Alcamo ma ormai la partita non ha più nulla da dire 42esimo minuto campioni campioni all'urlo dei tifosi Civitavecchia che quindi ha ormai le mani su questa Coppa Italia poi ci sarà la finalissima prevista a Giugno ad Aosta la finalissima della Coppa Italia delle direttanti adesso è Scurto aveva avuto una buona intenzione ma ormai non ci crede più nessuno nell'Alcamo si era completamente fermato sulla destra pavida una finalissima una finalissima che probabilmente non viene poi tanto presto perché giocare l'11 giugno e poi la girata attenzione poi il tiro di Regina che termina comunque sul fondo a crampi anche per un giocatore dell'altro giocare l'11 giugno si giocherà fra un mese perciò bisognerà stare attenti a rimanere in forma a rimanere concentrati e credo che sia un po' difficile Bagnuato volevo dire volevo dire una cosa prima tu facevi notare Fronti tesissimo Fronti credo che non abbia non abbia neanche respirato mi sembra che stia poi aspettando la fine della partita per esplodere anche lui come ormai sono esplosi dopo una stagione ricordiamo campionato stradinto finale di Coppa Italia dopo una stagione in cui Fronti ha sempre detto aspettiamo la fine per goderci la festa adesso mancano veramente pochissimi minuti intanto si è ripreso il giocatore siamo allo scadere del novantesimo pochissimi secondi alla fine di questo incontro si è la rimessa dal fondo da parte del civico Quatrana palla controllata da Benedetti poi la ruba Scurto aveva avuto forse la tentazione di commettere fallo Benedetti giustamente ha esistito il rinvio nuovamente di Quatrana e tutti attendono soltanto il triplice fischio dall'arbitro per esplodere anche la coppa anche la coppa sta è portata sul tavolo dove avverrà l'affiliazione al nostro colometro è la fine è il novantesimo sentite il tifo e la chiasso degli sportivi Civitavecchiesi intanto ultimi scampoli di gara Castellano pronto ad abbattute colpo di testa mancato da Lucci e poi Benedetti spazzo via una liberazione ma campanella ancora Castellano Bambina il lacrosse colpo di testa di Bambini Napoli ricorre il pallone che termina il suo laterale ancora Lucci colpito dai crampi e adesso vediamo veramente 1-1 stanno cadendo primo minuto di recupero trascorso rimane a terra Lucci si attende soltanto il fischio dall'arbitro poi Morsello Germino spara questo pallone a Gocchetti lo blocca ancora a terra Lucci non capiamo cosa attenda il giratore di gara forse fino all'ossilità Civitavecchia che ha vinto la Fappa Italia 2-0 all'Alcamo ricordiamo le reti al 43 dopo che al 27 stesimo rispetto spulso stacchiotti per dopo ammunizione 43 gol di staff sul calcio d'angolo colpo di testa 43 del primo tempo decimo minuto della ripresa Benedetti su punizione Civitavecchia in 10 ha vinto la partita ha vinto la Coppa Italia ancora a terra Lucci per i crampi si rialza in questo istante tutto è pronto per la premiazione secondo minuto di recupero chiaramente Antonio Lisi è pronto a bordo campo per sentire i protagonisti di questa sfida emozionantissima soprattutto per le vicende del primo tempo si continua a giocare intanto la signora Cruciani da uno sguardo al cronometro siamo quasi a 3 minuti di recupero la rimessa di Vesco Mucchio in aria colpo di testa di staffa poi controlla per un attimo l'alchiamo poi Castellano non sa cosa fare per il pallone si è completamente fermo Vesco sarebbe il caso che il direttore di gara un due testo con il conto Civitavecchia quindi che ha vinto la Coppa Italia dilettanti inizione 1993-94 diciamo finalissima con la vincente della Coppa Italia dello campionato nazionale dilettanti a giugno ma adesso tra poco esploderà la gioia dei tifosi di tutta la società dei cittatori e dei tecnici della Civitavecchia con la premiazione che ripetiamo sarà effettuata dal dottor Raffaele Cipollone vicepresidente della Lega Nazionale Direttanti con la presenza dei presidenti dei due comitati regionali Lentini per quello siciliano e Spanella per il comitato è finita è finita e la Civitavecchia ha vinto la Coppa Italia ecco la gioia dei tifosi dei giocatori in campo e tutti sotto la Popolare a ricevere il plauso degli ultrati della Civitavecchia la vittoria è difficile anche perché siamo rimasti per essere in 10 però siamo riusciti siamo stati bravi a sopperire anche in questo con il nostro tipo di gioco per cui la vittoria è doppiamente meritata anche perché abbiamo fatto due gol in ora da poco tutto è pronto adesso verrà effettuata la previazione forse potrebbero essere anche risparmiati questi fischi all'arbitro la terza arbitrale che ha lasciato il torino di gioco in questa settimana ed ecco le bandiere nerazzurre che vengono calate sul rettangolo di gioco tutti in campo a festeggiare tutto pronto per la previazione sono momenti che entreranno nella storia del calcio nerazzurro proprio di questi giorni lo scorso anno dicemmo che era stata scritta una delle pagine pioniere del fulbo del Civitavecchia con la retrocessione del campionato di eccellenza oggi il Civitavecchia ha stravinto il campionato e ha compiuto questa impresa in Coppa Italia ed ecco stupendo l'entrimento Lenzuoli da Nerazzurro viene portato in campo si festeggia a centrocampo in dieci pensavamo di dover leggere la partita a 0-0 fino alla fine invece siamo stati più forti tecnicamente tutte le cose poi alla fine abbiamo sofferto il caldo e il fatto che eravamo in dieci però penso che sia meritato tutto quanto sia la vittoria che tutto quello che abbiamo fatto quest'anno grazie avverrà la premiazione il grande bandierone nero-azzurro tutto è pronto probabilmente Sacchiotti non avrà forza vedremo la soddisfazione di alzare per primo la Coppa vedremo a chi farà consegnato il capitano in campo l'ultimo era Galli non avrà neanche la soddisfazione di giocare contro i Pelesi perché mi hanno confermato che vengono conteggiate e le ammunizioni vengono conteggiate perciò stupendo questa immagine guardate l'escuola 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 tutto è pronto per la ammunizione guardate io credo che i primi ad essere soddisfatti di tutto questo dovrebbero essere le personalità lì pronti a avere le premiazioni specialmente i rappresentanti dei comitati regionali certo è stata una giornata fantastica per me e per tutta la squadra purtroppo abbiamo girato in 10 e abbiamo mantenuto la calma e la concentrazione giusta il risultato è andato bene così non c'è per nessuno questa coppa la dedico più che altro a Angelo Trocheo che si rimette al più prezzo per me e per i miei compagni Presidente del Comitato Regionale Cavaliere Antonio Sbardella ed ecco e Bambina Bambina che riceve la soffa per la seconda classificata Cavaliere Sbardella Presidente del Comitato Regionale Laziale e adesso è il momento più atteso il signor sindaco di Ciri da Lecchia offre a nome suo e del comune una targa ricordo alla squadra vincente Ciri da Lecchia in calcio tra l'altro come spesso capita purtroppo l'autorità Lucchelli sono presenti soltanto quando si tratta di fare passerelle non abbiamo polemica ecco la premiazione Cingarecchia premia cipollone vediamo chi alzerà la coppa è sacchiotti è sacchiotti nonostante l'espulsione giusta il capitano alza la coppa si è già cambiato gli stessi giocatori che sembrava che non volesse andare e invece era stato spinto dai stessi compagni il presidente Puzzo e tutti gli altri dirigenti e vedete adesso però viene contesa la coppa ed ecco Lucchetti ora viene portato probabilmente andrà sotto le popolari e infatti ecco Lucchetti con la coppa tutti giustamente dai tifosi presidente dopo un anno buio finalmente la rinascita beh per quest'anno penso che sia andato bene abbiamo fatto un grande campionato abbiamo fatto questa grande Coppa Italia dove oggi i ragazzi hanno visto veramente il cuore è stata un'esperienza splendida siete riusciti finalmente a portare tanta gente al fattore erano anni che non si vede e infatti io ho da tantissimo tempo che non la vedo che non vedo questa gente qua in effetti è una cosa impressionante ecco il pubblico poi molto vicino alla squadra hanno capito perfettamente che eravamo andati in crisi è andato tutto bene adesso scusate ci sembra Bernanella che sta facendo tutto il giro delle copolari una grandissima festa che adesso diciamo proseguirà anche per le strade della città vediamo ancora adesso anche un po' di campanismo non ero in campo mai sofferto come se lo fossi? di più in campo che si sfoga fuori ho fuori ho un pacchetto di sigarette durante i 90 minuti quando sono spulso stacchiotti ti ho visto saltare in aria ero arrabbiato come tutti quanti è stata una decisione un po' troppo affrettata dell'arbitro e anche sbagliata fortunatamente non ha influito sull'eserio della partita no anche perché insomma i compagni hanno reagito ancora di più e hanno reagito nel migliore dei modi visto il risultato diciamo che ecco me la so sentito ho tirato la munizione anche se non era già impronita ci hai evitato questo disperso sì anche se non è andato forte è andata dentro uguale la palla sono contentissimo e adesso si innesia anche a Vittorio Portini che oggi ha condotto la squadra dalla panchina bene qui dallo stadio Fattori è veramente tutto Massimiliano Grasso Arrio Venturini Antonio Lisi Antonio Lisi e tutta la squadra dei tecnici della Fondasportivo vi ringrazio per l'attenzione ricordiamo Civitale Vichia ha vinto la Coppa Italia di Ressenti 1993-94 2-0 all'alto grazie ancora per l'attenzione e buonasera grazie a tutti grazie a tutti